Un patrimonio storico e culturale del nostro Paese. Questo è il tema dell'approfondimento odierno e parleremo dell'Associazione di More Storiche Italiane e allora vado immediatamente a presentarvi gli ospiti in studio con me che ci aiuteranno a conoscere questo interessante argomento. Subito allora presento Beatrice Fontaine, consigliere dell'Associazione di More Storiche Italiane Emilia Romagna, mentre dalla parte opposta vado a presentarvi il presidente invece appunto dell'associazione Giovanni Facchinetti. A entrambi il benvenuto e al presidente subito la parola perché vediamo questo acronimo ASDI, che cos'è? Che cosa la presenta? Intanto prima di tutto ringraziamo per questa opportunità che ci avete dato di presentare la nostra realtà che rappresenta questa associazione nata fra i proprietari, una rappresentanza dei proprietari dei beni immobili vincolati ai sensi del nostro codice dei beni culturali. Allora la nostra legislazione da tantissimi anni, già dal 1939, prevedeva determinati vincoli su tutti il patrimonio culturale, ma in modo specifico per quello che ci riguarda, su gli immobili che avessero particolari caratteristiche storico-culturali, assoggettandole a una pesante, questo lo devo dire come proprietario, disciplina in ordine alla conservazione. Quindi noi nati nel 1977 ci siamo riuniti in un'associazione, io ho aderito dopo, nonostante i capelli bianchi ancora non avevo partecipato a quell'atto fondativo, ci siamo riuniti per cercare di aiutarci vicendevolmente nella ricerca della migliore conservazione, valorizzazione e comunque promozione dei nostri beni. Questo direi che siamo diventati 5.000, non è che rappresentiamo un numero elevatissimo, degli ultimi 35.000, circa 35.000, 40.000 immobili vincolati. Immobili caratterizzati principalmente da palazzi nelle città, ville nelle campagne o castelli. Questa è più o meno la nostra realtà che ci accomuna, ci porta a incontrarci con un tentativo appunto di avere tentativo con un'attività volta a darci consulenza sotto vari prosili, che può essere sia quella tecnica che quella legale, che quella fiscale, sia cercare di migliorare insieme i rapporti con la pubblica amministrazione che appunto ha l'autorità di imporci moltissime attività. Cioè praticamente noi siamo soggetti ad autorizzazione per qualsiasi intervento nelle nostre dimore e con pesanti sanzioni nel caso che non dovessimo discostare dai permessi che ci devono essere rilasciati dalle locali soprintendenze. Quindi l'attività è costante, è intensa, ma poi più che altro è la realtà delle nostre case, perché abbiamo avuto occasione anche con le giornate di aprirle qualcune, non se ne possono aprire tutte, ma sono case che appunto proprio per queste peculiarità artistiche diventano di difficilissima manutenzione, con moltissimi impegni. Devo dire che in buona parte sono frutto case di famiglia, ricevute nelle generazioni passate e conservate. Altre sono state acquistate anche recentemente da degli appassionati, ecco, perché quello che unisce tutti i soci di questa nostra associazione di more storiche italiane è proprio una grande passione, un grande amore per queste case, di cui in effetti siamo custodi, perché sono la parte integrante, forse a mio avviso lo dico anche, più importante del nostro patrimonio culturale nazionale. Noi siamo noti in tutto il mondo per il nostro patrimonio, ma da che cosa è determinato? Noi giriamo, vediamo palazzi, ville, e questa è la realtà. Siamo proprio incodiositi da queste strutture. E questa è la nostra attività, quindi siamo ben felici di essere qui, di poterne parlare, di poter cercare di far capire alle persone le difficoltà a cui andiamo incontro oggi, in un mondo dove sappiamo che tutti, diciamo proprio tutti, siamo un pochino oppressi dal nostro Stato sotto un profilo fiscale. E tutto questo non aiuta a mantenere case di grosse dimensioni con capacità abitativa molto ridotta e non sempre utilizzabile, come poi potremo vedere specialmente con Beatrice. Esatto, vorrei chiedere infatti a Beatrice, perché si parlava di queste dimore, alcune sono aperte, diciamo, altre no. Qual è la differenza? Come si arriva a decidere appunto di farne una struttura aperta al pubblico oppure meno? Certo, ma la decisione che porta, le motivazioni che portano ad aprire una dimora o non aprirle sono di vario genere e secondo me cambiano da proprietario a proprietario. Alcuni proprietari, come diceva il Presidente Facchinetti, sono spinti sostanzialmente da una grande passione, da un grande amore, quindi una scelta proprio di pancia, diciamo, che li porta a volere condividere con il pubblico questa fortuna che uno chiaramente ha di poter vivere in queste bellissime dimore, ma non solo di condividerle, ma anche di creare sinergie, ad esempio con il territorio, con i comuni. Abbiamo un sacco di dimore storiche che aprono al pubblico per mostre che creano sinergie con i comuni durante le stagioni estive per rassegne musicali, appunto, o anche addirittura con eventi per le scuole, didattica, insomma, le attività sono di vario genere, quindi direi... Ma è più facile, Beatrice, trovare delle sinergie, diciamo, con l'amministrazione senza volere fare amici o nemici o è più facile trovare anche qualche opposizione, qualche difficoltà? No, direi che sono quasi sempre sinergie, anche perché, come dicevo, si è spinti dalla passione e quindi comunque è più il piacere veramente della condivisione, dell'insegnare, del tramandare, il tramandare vecchie tradizioni, vedere come un tempo si viveva nelle campagne, ad esempio alcune dimore storiche sono in campagna e quindi hanno attorno aziende agricole, quindi magari spiegare ai bambini come un tempo si lavorava la terra, come si producevano i bacchi da seta, insomma, direi che là non ci sono quasi mai degli attriti, tutt'altro, anche perché sappiamo che nel mondo della cultura c'è molto volontariato, comunque insomma bisogna anche molto metterci del proprio per far sì che le cose funzionino, quindi devo dire che non posso dire che... L'unica difficoltà ogni tanto con le istituzioni si può avere appunto magari quando bisogna fare dei lavori, appunto delle ristrutturazioni, allora lì sì, magari si possono riscontrare delle difficoltà nelle sovraintendenze, magari c'è un po' più di lentezza, però insomma direi che in linea generale i rapporti sono buoni. Ottimo. Presidente, fino a qui le cose positive e abbiamo detto onori, ma anche oneri, perché sappiamo che ci raccontava che insomma mantenere queste strutture è sicuramente un onere. Sì, è un onere molto pesante, di tutta evidenza, è palese, cioè ci sono opere d'arte all'interno, comunque ma non solo opere d'arte, ma le stesse finiture, delle pitture, gli archivi presenti, tutto comportano una particolare attenzione. Attenzione molto costosa come tipi di interventi, proprio perché non possiamo utilizzare delle metodologie di intervento che si potrebbero fare in un edificio contemporaneo. Quindi questo è veramente un grosso onere, difficilmente affrontabile, tant'è che da tempo si sta cercando di ottenere a livello pubblico una possibilità quantomeno di scaricare questi costi che si vanno ad affrontare e portarli al 100%, oggi c'è un 19% del costo per la manutenzione ordinaria e straordinaria che può essere detratto a livello fiscale, ma questo è sicuramente poca cosa, anche perché, e questa è una cosa da spendere, tutta questa attività di interventi coinvolge una mano d'opera molto specializzata, non può venire una persona non particolarmente preparata. Quindi c'è tutto un mondo artigianale che gira intorno, che l'aumento del lavoro potrebbe dare un ritorno economico al territorio molto importante, da degli studi fatti dalla stessa associazione, si dice che ogni lira investita in un immobile storico produce un indotto, fa lavorare un indotto per una valenza quasi doppia circa. Qui intorno a noi si parlava, ci sono circa 4.000 aziende artigiane che lavorano, con circa 12.000 addetti, a cui possiamo dare lavoro, hanno necessità, bisogna formarli, noi stiamo perdendo la tradizione dell'artigianato per poter fare determinati interventi. E oggi nella situazione attuale di grande difficoltà economica diventa anche difficile fare degli investimenti nel settore dei beni storici e questo ci ha portato a una contrazione parallela anche del mondo artigianale, di cui negli ultimi 5 anni c'è un calo del 33% delle imprese, delle aziende, questo ci dava il dato appunto delle organizzazioni degli artigiani. Quindi da fare c'è, gli oneri sono tanti, negli anni il mondo dei proprietari delle dimori storiche hanno speso delle cifre considerevolissime nella manutenzione, nella cura e in prospettiva si vede meno capacità per fare questo. E quindi ci vorranno sicuramente termini di incentivo, primo fra tutti la possibilità comunque di detrarre, perché non tutti i beni possano essere facilmente messi a reddito, forse la cosa più facile può essere per dei palazzi, nei centri storici, in cui facilmente si può creare delle locazioni, dare delle destinazioni particolari, anche se ben sappiamo qual è l'attuale situazione del mondo immobiliare, una volta per esempio stanno chialando sempre di più la domanda di uffici in cui spesso venivano dedicati nei centri storici i piani nobili, oggi questo sta mancando. E già è una realtà diciamo più facile quella degli immobili nelle grandi città, ma spostiamoci fuori, nei piccoli centri tutto questo è sempre più difficile e si apre il discorso della possibilità magari di aprire, perché diventa l'apertura di una villa in campagna, punto di ritrovo, diciamo epicentro di un movimento economico nel suo contorno che coinvolge bar, ristoranti, purtroppo adesso abbiamo un indotto molto importante. Tornando c'è un discorso anche che è non sempre facile, quindi abbiamo bisogno di aiuto a aprire, perché è vero che ci sono delle dimore che si facilmente volte all'apertura, alla possibilità di fruizione pubblica, altre sono o abitate o di difficile posizionamento o comunque aprire, comporta costi di guardiania, di controlli, di cose che non sempre sono bilanciati da quelli che possano essere gli incassi che si vanno a fare in quella giornata. Noi per farci conoscere apriamo gratuitamente almeno una volta all'anno tutto quello che si può e quest'anno purtroppo, come sapete, col Covid ci è stato quasi impedito, abbiamo fatto il possibile, i numeri non sono stati quelli degli anni scorsi ma comunque sempre notevoli e nei limiti del contingentamento consentito comunque abbiamo fatto il tutto esaurito. Quindi sicuramente siamo importanti, quello che è importante trasmettere è che noi siamo parte di un patrimonio che è di tutti. Questi proprietari privati che magari sembrano avere delle cose incredibili, che danno un senso di opulenza, in effetti sono dei custodi innamorati dei loro beni ma dei custodi a servizio di tutti e in questo ci vorrebbe un aiuto e un intervento anche, diciamo, politico a vantaggio. È chiaro che oggi siamo in grosse difficoltà. Per quelli che hanno aperto il Covid, lei si può immaginare, voi tutti vi potete immaginare che tipo di danno sia stato fatto come copertura, presenze, il danno è enorme, quindi adesso dobbiamo tirarsi su, vedremo se ci aiutano, ogni tanto ci dimenticano, anche il legislatore dà dei contributi che poi vengano limitati ed esclusi proprio agli A9, agli A8, in cui rientriamo, sono stati riaperti solo l'eco bonus, riaperto solo per gli immobili vincolati che sono aperti al pubblico, però c'è una realtà anche molto forte di immobili non aperti al pubblico che hanno bisogno di essere mantenuti per passarli alle prossime generazioni. Il turismo ne stiamo parlando tanto adesso, il punto focale è di ripresa dell'Italia, ma cos'è che caratterizza l'Italia rispetto agli altri paesi? Ma proprio il suo patrimonio storico, culturale, specialmente degli edifici. Noi giriamo per le grandi città, cosa ci salta agli occhi? Grandi palazzi, giriamo nei borghi sperduti, c'è la villa che caratterizza il borgo, andiamo sul cocuzzo, lo vediamo nel castello, ci illumina la valle, attrae intorno a quella valle il turismo da fuori, questa è la nostra forza e abbiamo bisogno di avere il sostegno, il sostegno proprio anche di comprensione del nostro sforzo dal pubblico. Quindi adesso io vorrei essere, non è piageria, ma vorrei ringraziarla di questo invito che ci ha fatto oggi per farci conoscere, ecco. E noi lo stiamo facendo con piacere, perché come stava dicendo la Presidente Beatrice, questa maniera appunto di vivere il turismo diversamente, perché un po' queste strutture sono dei musei diffusi, questa è un po' la nuova definizione che possiamo dare. Esatto, l'associazione conta circa 5.000 soci, le proprietà sono diffuse in tutto il territorio italiano e sì, diciamo che è un'opportunità per poter visitare delle strutture che, la giornata nazionale non ne parliamo neanche, per visitare strutture che abitualmente sono chiuse, ma sicuramente il fatto che siano su tutto il territorio italiano ti dà proprio l'idea di quanto queste case comunque caratterizzino i nostri centri, i nostri borghi. Questo a livello italiano, ma l'Emilia Romagna come si contestualizza? Quanto patrimonio ha? Non in termini numerici, ma si ha comunque molto valore, ha molte dimore? Assolutamente sì, posso dirlo chiaramente, sì sì sì, la Romagna, l'Emilia, la Romagna, entrambi abbiamo diverse dimore, sono circa 300 mi sembra. No, devo correggere queste imprecisioni, sono 400 associati, ma la cosa importante è il numero dei palazzi che conosciamo tutti nelle grandi città, ma pensiamo cosa ci sia... Piazza Santo Stefano a Bologna, immaginiamoci... L'impatto. Esatto, immaginiamoci Piazza Santo Stefano a Bologna o senza i palazzi che la contornano, o semplicemente anche nei piccoli borghi di campagna, se non ci fossero palazzi come Palazzo Bianchini a Santa Sofia o a Castrocaroterme, qui vicino il Palazzo del Capitano e delle Artiglierie, il Castello del Capitano, insomma diciamo che sono, come diceva prima il Presidente, la rocca di Sant'Arcangelo di Romagna, insomma le dimore storiche fanno parte del nostro territorio e lo arricchiscono. Sono conosciute, oppure ci ne ricordiamo soltanto nelle giornate particolari, nella giornata nazionale, o sono un po' più da fare conoscere, come state ovviamente cercando di fare, come ci raccontava il Presidente, insomma di fare conoscere il nostro patrimonio. Beh, ma è un patrimonio privato, nel mondo, diciamo, nell'insieme degli immobili vincolati, oggetto di vincolo, quelli in mano privata rappresentano il 17%, quindi è una quota molto rilevante, perché se pensiamo che quasi tutte le istituzioni nelle varie città si trovano in palazzi storici, di grande importanza, quindi è una voce sicuramente molto importante. E poi adesso basta elencarli, i nostri capoluoghi di provincia, solo facendo una veloce scorsa da nord, da Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ravenna, pensiamo Forlì, pensiamo Cesena, ci sono delle cose meravigliose, i palazzi di Cesena, ci sono delle cose uniche, con dentro degli archivi straordinariamente importanti, quindi questo da conoscere è fondamentale per il nostro Paese, per poterlo esportare all'estero e farlo, oggi viviamo di un turismo italiano, per fortuna, quindi già anche questo è un dato, un'opportunità nella tristezza del Covid, che rivediamo tanto turismo italiano a venire a cercare luoghi poco conosciuti, però insomma questo poi ci esporta di nuovo verso l'esterno, facendo ripartire, speriamo di essere una parte trainante nella ripresa economica del Paese, e questi dati sulla Romagna poi particolari ce li abbiamo da Beatrice, che proprio qua in questa zona ha un punto di riferimento come esperimento di apertura e di sviluppo intorno a un bellissimo palazzo, che penso c'era potuto... Dove ho avuto occasione di conoscere proprio Beatrice, perché è stata proprio una bella iniziativa di conoscere questi giardini che nessuno dall'esterno, soprattutto eravamo nella location di Tredozio... E' una sorpresa, non ci si aspetta di... Raccontiamo qual è appunto questo luogo, perché ci siamo trovati... Anzi, e sottolinea anche una cosa, che accanto all'immobile, nella nostra attività, è ricompresa anche i giardini che ne sono alle stesse connesse nelle loro... Che sono comunque vincolati, quindi anche... Vincolati insieme... Sì, 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 sì. E com'è? Quando si apre al pubblico, quali sono le curiosità, cioè il pubblico come si dispone a questo tipo di visita? Ah, sicuramente c'è molta curiosità, molto rispetto, assolutamente, Anche perché si può pensare che aprire casa propria sia una cosa un po' strana, in realtà le persone che vengono a vedere il giardino sono estremamente interessate e incuriosite chiaramente dalla storia della famiglia, dalla storia della dimora stessa, quindi lo sviluppo architettonico che ci può essere stato negli anni, quelle che erano le peculiarità e le funzioni agricole in passato, e quello che invece è stato fatto negli ultimi 40 anni. Quindi un progetto che fu iniziato circa 40 anni fa da mio padre, che decise, fu uno dei primi forse, in avere questo coraggio di condividere appunto questo bene e soprattutto di fare cultura, cioè di portare cultura in un piccolo paese dell'Appennino Tosco-Romagnolo e in sinergia appunto col comune e con tante altre iniziative culturali della regione, della nostra provincia, di Forlicesena, di Imola, di riuscire appunto a creare un indotto, una serie di iniziative culturali che appunto, come dicevo prima, vanno dalle mostre ai concerti, abbiamo avuto una splendida collaborazione da oramai tantissimi anni con l'Emilia Romagna Festival di Imola, il maestro Mercelli, e poi abbiamo avuto piccole collaborazioni anche con il Saxar Festival di Faenza, con il Museo San Domenico di Forlì, insomma, diciamo che è molto importante quando si decide di fare questo tipo di azioni fare rete con chi sta attorno a noi, perché chiaramente da soli, soprattutto anche considerato le posizioni dove molte dimore si trovano, se uno vuole fare cultura è importantissimo fare rete con tutti gli enti che si occupano di questo, di cultura, che possono essere appunto rassegne musicali, insomma, diciamo che è molto importante non pensare di essere da soli. Poi noi, a Prendo Calpa, chiaramente abbiamo deciso di puntare molto sul giardino e quindi il periodo migliore è chiaramente la primavera, dove ci sono tutte le fioriture, ma poi lavoriamo molto con le scuole, quindi vengono organizzate anche magari delle cacce al tesoro botaniche in primavera per insegnare ai bambini a conoscere le piante. Insomma, le iniziative sono di vario genere. Come noi, vorrei dire, ci sono tante altre dimore in Emilia Romagna che fanno questo tipo di attività culturali. Oltre alle attività culturali ci sono anche attività di tipo più leggermente imprenditoriale, quindi appunto la possibilità di, vengono appunto affittate per eventi o per convegni, congressi, insomma. Un ampio uso, insomma, che può essere fatto. Ci stiamo avviando alla conclusione, ma volevo chiedere... Sì, dicendo che l'importante di quello che stava raccontandoci con l'entusiasmo di essere appunto, far parte di un gruppo che ha iniziato un tipo di attività, attività dell'associazione, anche accompagnare realtà similari intorno per sviluppare vari centri che possono permettere dei percorsi, dei percorsi riuniti in cui si inseriscano anche dimore che offrono ricezione, ristorazione, varie attività. Su questo attivandoci anche con delle piattaforme, cioè noi abbiamo già un sito che evidenzia molte dimore di nostri associati aperte al pubblico proprio per ricezione sotto vari aspetti e stiamo proprio adesso promuovendo e sta lanciandosi proprio alla Fiera di Limini questa nuova piattaforma che proprio dovrebbe servire ad aiutare a proporre al pubblico le dimore storiche, proprio con un grande piano di grande tour ricorrando quelli che erano i grandi tour dei secoli passati, un percorso sulle dimore che sono poco conosciute in ambienti poco conosciuti per valorizzare sempre di più il nostro patrimonio italiano, nazionale. è una possibilità che avranno i turisti di poter visitare e conoscere, avere delle esperienze all'interno di dimore storiche e di situazioni quindi abbastanza uniche perché si parla appunto di situazioni che sono magari non ancora troppo conosciute come diceva. Bello, allora saremo in attesa di queste novità. Il nostro tempo è letteralmente volato, io vi ringrazio per questa conoscenza, per questo contributo e magari rinnoviamo l'appuntamento in futuro per parlare di quelle che saranno le novità e come sta andando l'associazione di dimore storiche. Con grande piacere e grazie dell'opportunità, speriamo di portare, di tornare in un momento più sereno e con maggiori prospettive, tutti più tranquilli. Bene, ringrazio i miei ospiti, ringrazio i nostri telespettatori e arrivederci.